ciao e buonanotte a tutti eccoci di nuovo qua per una nuova diretta video in cui parliamo dei miei cult movies i miei film del cuore e senza preavviso così debotto senza un perché come giustamente si dice in boris che è una delle serie italiane mie preferite e sempre con questo tono da dj notturno anche se stanotte non è mezzanotte perché tutta questa quarantena questo lockdown questo smart working questo smart schooling questa dad la didattica a distanza un po stancano noi adulti noi genitori e quindi fondamentalmente non riesco più a tirare così tardi quindi sto lentamente anticipando un po queste dirette sono le 23 20 di lunedì 11 maggio la fase 2 è nel pieno dello suo svolgimento per chi si collega adesso bimblano ancora un po bamblino modo di dire piemontese che adesso non mi ricordo più esattamente se bimblano bamblino ma che vuol dire ciurlare nel manico prendere un po di tempo in attesa che qualcuno di voi si colleghi per parlare di un capolavoro assoluto del cinema che mi piace moltissimo contro la mia volontà e adesso vi spiego perché perché contro la mia volontà può esistere un film del cuore che in realtà non vorresti che ti piacesse ma ti piace sì ci sono quelli che normalmente chiamiamo i guilty pleasures i piaceri colpevoli no quei film un po trash troppo brutti per essere confessati ma che comunque un po ti piacciono per me ad esempio un guilty pleasure sono i film vediamo un po cosa posso dire che non sia troppo imbarazzante vabbè per esempio i primi film di abbat antono jerry calab mi piacciono sempre molto sono dei guilty pleasure ma qui non stiamo parlando di piaceri colpevoli stiamo parlando di un capolavoro della storia del cinema che non dovrebbe piacermi perché io detesto cordialmente il genere western è proprio un genere che non è nelle mie corde i film western e i film di guerra per me sono normalmente alieni dal mio modo di vedere le cose e di pensare ciao ecco una persona che si è collegata come dicevo l'altra volta per me i miei generi preferiti in assoluto sono il musical quindi il film dove la gente improvvisamente si mette a cantare a ballare mentre parla i film horror quindi dove succedono cose improbabili dove comunque si sottostà delle regole particolari le regole dell'horror che venivano bene enunciate da Wes Craven in Scream ma dove tutto può accadere dove la fisicità le leggi della fisica comunque sono completamente sovvertite non come nella fantascienza dove l'accento è spesso posto sulla parola scienza e film d'animazione che sono in assoluto la libertà creativa più più incredibile se fatti con un certo criterio con una certa testa diciamo ecco allora dicevo i film western e i film di guerra invece fanno proprio parte di una categoria di film che a me normalmente fa cagare ci sono pochi western che mi piacciono in genere sono western revisionisti quindi dove le storie non sono così classiche ma comunque in generale non è un universo narrativo che pratico non è un neanche un insieme di luoghi comuni cinematografici che mi possa far scattare qualcosa ma come in tutte le cose c'è una grandissima eccezione l'eccezione è questa sentieri selvaggi the searchers di john ford con john wayne e voi direte ma cazzo ti piacciono i western revisionisti o meglio sopporti i western revisionisti e poi ti piace un classicone di john ford del 1956 ebbene sì the searchers ovvero sia sentieri selvaggi ve lo faccio rivedere vi metto il faccione di john wayne eccolo qui è in assoluto uno dei miei film preferiti probabilmente nonostante sia un film western vediamo un attimo perché allora intanto vi dico questo dvd è molto interessante perché dentro c'è una serie di contenuti speciali tra cui i documentari narrati in particolare da jeffrey hunter che è il partner di john wayne il coprotagonista in questo film ed è una particolarità interessante salutiamo i nuovi intervenuti la particolare interessante di the searchers che è un film come ho detto del 1956 è che è stato il primo film prodotto da una major hollywoodiana in cui mentre giravano il film si girava già indietro le quinte cioè john ford aveva già pensato di realizzare una serie di due o tre documentari sul dietro le quinte del film da piazzare come diciamo marketing per vendere meglio il film e naturalmente questo fa la gioia dei produttori di dvd e di contenuti speciali che sono ovviamente tutti i contenuti lì ma questo vabbè un dettaglio per maniaci del cinema e per quelli che si guardano i dvd con il commento del regista cioè io e credo non molte altre persone allora andiamo a raccontare un attimino la storia di sentieri selvaggi sentieri selvaggi è un titolo molto evocativo in italiano è diventato un modo di dire in realtà il titolo originale the searchers cioè i cercatori perché tutto il film è una ricerca è stato definito quasi un poema epico e sono abbastanza d'accordo nel senso che ciao veronica e ciao giulio nel senso che praticamente è una serie di episodi inanellati un po' come veramente come i poemi epici omerici qual è la storia? la storia è la storia di Ethan Edwards ogni tanto mi vedete fare così perché chiaramente non posso ricordarmi a memoria i nomi di tutti i personaggi quindi c'ho la scheda del cast davanti agli occhi Ethan Edwards è interpretato da John Wayne John Wayne lo faccio rivedere è questa faccia qua quindi praticamente scolpita nel granito diciamo così monoespressivo un po' come diranno di Clint Eastwood dopo di lui sempre in ambito western Ethan quindi torna all'inizio del film a casa dei suoi parenti e cioè chi? il fratello la cognata e i figli di questa simpatica coppia già quando arriva notiamo una cosa interessante che lui bacia la cognata sulla fronte ma la bacia con una certa intenzione e la cognata lo guarda così ecco quindi già si capisce che c'è una mezza storia questa è una tematica sotterranea del film che è assolutamente strana per un western di quel periodo i figli del fratello e della cognata di Ethan sono due femmine un maschio e un figlio adottivo allora le femmine sono Lucy e Debbie Debbie che lo vedremo poi quando sarà grande perché il film si svolge su uno span temporale lunghissimo cioè copre anni di storia Debbie da grande viene interpretato da Natalie Wood che ha il suo secondo ruolo importante la Natalie Wood se sapete sfortunata morta giovane insomma nell'81 però ha avuto una carriera incredibile e soprattutto era già nota per essere un'attrice bambina un po' come Shirley Temple ha fatto una marea di film per arrivare poi al suo ruolo al ruolo che l'ha resa famosa in Rebel Without A Cause con James Dean gioventù bruciata sì mi spiace l'ho detto all'inizio anticipo perché ormai mi sto stancando c'è un po' di sonno tra il lockdown lo smart working lo scats schooling eccetera quindi dove ero arrivato che mi fai perdere il filo Natalie Wood che aveva avuto il suo primo ruolo importante veramente come teenager in Rebel Without A Cause che è praticamente il film che stabilisce la figura del teenager nel cinema americano l'anno dopo quindi nel 56 fa la parte di Debbie da grande in da adolescente diciamo in The Searchers Sentieri Selvaggi poi la sua carriera sappiamo che è andata alle stelle perché poi dopo questo ha fatto West Side Story ricordo soprattutto quel ruolo lì beh splendore nell'erba teenager sessualmente repressa comunque vabbè stiamo come al solito divagando allora Ethan cioè John Wayne arriva a casa bacia la cognata sulla fronte però si capisce che ce n'è saluta Lucy e Debbie che sono le sue due nipotine saluta anche mi sembra Ben si chiami il figlio maschio e soprattutto saluta Martin Martin è il figlio adottivo di suo fratello ed è un mezzosangue e qui entra a gamba tesa la tematica razzista del film che per uno che lo guarda oggi se vuoi io veramente vi consiglio di guardarlo adesso controllo solo un attimo la durata giusto per 114 minuti non è tantissimo non si trova credo beh non potete cercarlo ecco comunque si trovano i torrent allora devo confessare che sono 114 minuti che sembra che durino parecchio di più perché Sentieri Selvaggi a differenza di molti altri western anche dello stesso John Ford ha la fama e la particolarità di essere particolarmente lento come film ha un andamento narrativo molto strano di corsi e ricorsi ma ci arriviamo siamo sempre qui alla trama allora Ethan è andato a salutare la sua famiglia viene fuori che ci sono stati dei furti di bestiame nel vicinato la storia è ambientata in Texas anche se in realtà è tutta girata nella Monument Valley che è il luogo iconico di tutti i western americani classici e soprattutto il luogo iconico di John Ford per eccellenza lo vediamo poi magari meglio nel trailer ci sono stati dei casi di furto di bestiame allora Ethan con altri vicini di casa si mette in cerca degli indiani Comanci perché si sospetta che siano stati loro a rubare il bestiame e in effetti ci sono gli indiani Comanci solo che era tutta una trappola una manovra diversiva per far andare i cowboy a cercare il villaggio Comanci mentre i Comanci cattivissimi andavano ad uccidere tutta la famiglia di Ethan quindi abbigliato andavano ad uccidere tutta la famiglia massacrando tutti i maschi e rappendo le femmine che venivano portate nella tribù per appunto congiungersi carnalmente con i nativi americani e creare quella che cioè creare una non dico una dinastia ma comunque una discendenza di mezzo sangue ecco qui il tema saluto anche Vanessa il tema del meticciato il tema quindi della mescolanza razziale è particolarmente sentito in Sentieri Selvaggi e per anni è stato non criticato ma è stato malinteso diciamo questo film per essere un film profondamente razzista ora il personaggio di John Wayne è sicuramente un personaggio molto razzista nei confronti dei nativi americani dei Comanci in particolare i Comanci anche sono dipinti come una tribù di selvaggi senza scrupoli senza cuore totalmente dediti al male ma in realtà ognuno ha le sue motivazioni vengono comunque abbastanza spiegate e rispetto ad altri western del periodo l'approfondimento psicologico c'è è sottile ma c'è allora quindi siamo arrivati al punto della trama in cui Ethan trova tutta la sua famiglia massacrata cosa succede? da qui in poi si attiva la modalità Searchers cioè come dice il titolo stesso i cercatori sono rimasti in vita solo Ethan e Martin il nipote adottivo diciamo così in mezzo sangue che lui disprezza proprio perché è mezzo sangue e glielo dice chiaramente all'inizio del film ma è costretto a collaborare con lui vanno a cercare i comanci e da qui parte una struttura ricorsiva del film che può essere noiosa per i critici del tempo è stato molto noioso è stato mal criticato perché spesso si è detto è un film che ha una struttura ricorsiva un po' noiosa in continuazione vanno dai comanci trovano il villaggio indiano scaramuccia colpi d'arma da fuoco ritornano indietro riprovano ritornano indietro riprovano è un continuo inseguimento che dura anni perché come ho detto lo span temporale di questo film è lunghissimo cioè copre più di cinque anni se non ricordo male in cui Ethan e e Martin cercano sostanzialmente Debbie perché cercano Debbie perché intanto in una delle varie scorribande per andare a beccare i comanci trovano il cadavere di Lucy che è stata probabilmente violentata e uccisa e da lì nel gruppo diciamo dei cercatori c'era anche il fidanzato di Lucy che si butta sui comanci sparando all'impazzata perché nooo la mia fidanzata è morta nel dirupo e chiaramente lo uccidono varie altre scorribande sono occasione per John Wayne di fare per esempio una scena molto famosa quella dove incappano in una diciamo così in una necropoli comanci dove ci sono i terreni di sepoltura degli indiani quelli che poi nei film tipo pezzemeteri fanno risorgere i gatti morti comunque vabbè e trovano questo terreno di sepoltura degli indiani e lui che cosa fa è una scena molto forte per l'epoca scoperchia la tomba sfregia il cadavere di un indiano appena sepolto e gli sputa sopra adesso se non mi ricordo non mi ricordo male quindi una scena fortissima dal punto di vista della valenza razzista del personaggio di Ethan interpretato da John Wayne c'è da dire che all'inizio si vede una lapide nel terreno di famiglia in cui bisogna però fare fermo immagine quindi qui la sottigliezza di John Ford si capisce in pratica che la madre di Ethan è stata assassinata dai Comanci quindi adesso lui è veramente guidato solo dalla vendetta dal desiderio di uccidere tutti gli indiani che può perché sua madre è morta in questo modo il resto della sua famiglia è morta in questo modo e probabilmente Debbie è stata rapita per essere data in sposa come vedremo che poi è effettivamente così al capo indiano il capo scar scar cicatrice che in italiano è stato tradotto il capo scout che a me ha sempre fatto un casino inghignare il capo scout in realtà è il capo scar cicatrice quando poi alla fine insomma trovano Debbie la questione è che Ethan la vuole uccidere cioè è talmente accecato dall'odio verso gli indiani e verso i meticci quindi scusate mi stavo un attimo mi è venuta in mente sta cosa tra i meticci e i mulati che c'è tutta una differenza comunque faccio sfoggio di cultura il meticcio se non ricordo male è il figlio di un bianco e di un indio o indiano americano o indio o sudamericano mentre il mulatto è il figlio di un bianco e un genitore bianco e un genitore nero questo era tutto il sistema di cast introdotto dagli spagnoli durante la conquista delle americhe storia affascinantissima che però ci porta molto fuori strada poi vado lungo e già sti video durano più di 20 minuti e poi vi addormentate mentre parlo allora Ethan vuole trovare Debbie per ucciderla mentre Martin vuole trovare Debbie per salvarla questa è la differenza tra i due che ovviamente hanno un contrasto molto forte durante il film per questo motivo qua perché Ethan vuole uccidere la nipotina perché è meglio morta che in mano agli indiani meglio morta che diventerà una scuow che farà figli metici questa cosa qua colpisce molto duramente tant'è vero che quando poi trovano Debbie c'è un po' questa paura nello spettatore che lui punta la pistola e che quindi stia per ucciderla in realtà sul finale praticamente quello che succede è che tu pensi che lui la uccida in realtà la prende se la porta a cavallo e la salva cioè ha questo momento finale di dire vabbè non la uccido la salvo una risoluzione improvvisa che tra l'altro Vince Gilligan ha dichiarato che il finale di Breaking Bad quando Walter White decide improvvisamente di salvare Jesse che fino al momento prima avrebbe voluto uccidere è stata una mossa alla The Searchers cioè ha proprio consciamente citato la struttura finale di questo film di John Ford quindi la prende la salva la riporta a casa tutti felici e contenti sì malinconicamente però perché c'è questa inquadratura finale clamorosa di cui però parleremo dopo adesso vi faccio vedere il trailer di The Searchers di John Ford ricordiamo il film del 56 e quindi vi beccate il solito trailer da due o tre minuti con me nell'angolino dello schermo che com'è ecco John Wayne la Monument Valley ecco la Monument Valley non si può non riconoscerla è il luogo deputato di John Ford ciao Vanessa ecco vedete anche le scene d'inverno cioè perché si svolge durante tutte le stagioni anche Corbucci col grande silenzio ha preso molto da qua Tarantino con Hatful Aid notare la tipica voce dei trailer ecco questa è Marta la cognata il famoso bacio sulla fronte vedete John Wayne monoespressivo abbronzatissimo cosa vuoi che faccia ti devo fare un disegnino te lo devo dire per esteso qua gli sta dicendo che praticamente la sua fidanzata Lucy è stata violentata e uccisa ecco Natalie Wood Natalie Wood vestita da Squaw qui ecco vedete lui la vuole uccidere Martin gli dice Ethan no è così Massimiliano sta dicendo le corse di cavalli che danno energia a questi film western è vero in questo caso stranamente ok sì ci sono molti inseguimenti però come ho detto prima è un film estremamente lento nel suo percorso narrativo e infatti è stato parecchio mal criticato cioè parecchio mal criticato no ecco però non è stato accolto come un capolavoro fin da subito ecco qui ci sono Vera Miles giovanissima Vera Miles che poi apparirà nel 1960 in Psycho di Hitchcock Ward Bond caratterista tipico dei film western Natalie Wood The Searchers ecco per essere dicevo un film western quindi un film di un genere che io mal sopporto normalmente è un film veramente ricco di sfumature stavamo dicendo non ha colto benissimo alla sua uscita scusate ma qua è ripartito qualcosa ecco dicevo un film non ha colto benissimo alla sua uscita ma che negli anni ha avuto veramente un seguito di culto sempre di più le solite classifiche dell'American Film Institute della rivista Sight and Sound inglese ma persino Goddard sui carriere del cinema hanno scritto che The Searchers è veramente uno dei film più belli della storia del cinema ancora oggi sta sicuramente nei primi dieci in queste classificone e sicuramente a livello di classifiche di film western in particolare è al primo posto senza alcun dubbio però io appunto non è che lo amo per questo per ragioni di classifica è proprio una fascinazione più sottile sulla psicologia dei personaggi dal trailer forse non è che rendesse molto questa cosa però vi stavo descrivendo la famosa inquadratura finale l'inquadratura finale che viene ripresa tantissimo indovinerete tutti anche i film e le serie tv in cui è stata ripresa western e non prevalentemente western dopo il 1956 non esiste un western che non abbia in qualche modo reso omaggio a questa cosa qua ci siamo interrotti con la trama Ethan riporta Debbie della famiglia dei vicini di casa la cui figlia vera Miles e l'interesse amoroso di Martin riporta Debbie quindi in famiglia diciamo così in una famiglia allargata tutti entrano in casa felici perché la storia si è conclusa su una nota di lieto fine John Wayne no lui rimane fermo incorniciato dalla porta di casa quindi c'è buio buio questo è il buio un buio che però è un buio casalingo un buio rassicurante il buio di una casa poi c'è la porta attraverso la quale si vede l'orizzonte la Monument Valley e la figura di John Ford che peraltro si tiene il gomito in un certo modo si tiene il gomito così e questo è una cosa molto interessante un aneddoto a molte letture questa scena finale il fatto che lui si tenga il gomito è un omaggio a un attore di western del cinema muto ai primi anni del cinema sonoro che in questo momento non mi ricordo come si chiama Harry Harry Carey Harry Carey un attore un famoso attore di western dell'epoca d'oro diciamo e John Wayne fa questo gesto proprio perché Harry Carey aveva questo vezzo di tenersi il gomito di stare in posa tenendosi il gomito con un braccio nel film ci sono Harry Carey Jr e anche la moglie di Harry Carey dopo che lui era morto da pochi mesi quindi il tutto è studiato come un omaggio a questo attore qua ecco ma il fatto che lui appunto rimanga fuori dalla porta di casa vuol dire che l'eroe principale non può partecipare della gioia familiare di tutti gli altri che hanno ritrovato la ragazza perduta Debbie Natalie Wood ma è destinato a rimanere fuori fuori dalla porta in un altro mondo il mondo dei sentieri selvaggi appunto il mondo della Monument Valley il mondo dei cowboy diciamo e questa cosa qua è veramente struggente mi vale mille cavalcate verso il tramonto probabilmente amo questo film ma soprattutto per il finale è un finale che è stato ripreso tantissimo per esempio non lo so Kill Bill mi rifà la stessa inquadratura Tarantino poi è impallinato particolarmente con The Searchers perché rifà la stessa inquadratura sia anche il Bill ma anche in Bastardi senza gloria sì in Bastardi senza gloria nel segmento in cui Hans il personaggio di Christoph Waltz entra a cercare gli ebrei nella casa di campagna è lì che ripete questa scena qua ma poi anche in Westworld la serie anche in in un'altra serie western che non ho visto che è Godless vedo che questa inquadratura è spesso ripresa perché è un'inquadratura che ormai significa questo significa l'eroe solitario separato dal resto della sua comunità tantissimi registi amano questo film in modo particolare Tarantino l'abbiamo detto ma anche Martin Scorsese anche Vin Vendors è stato paragonato quando ha fatto Pari Texas è stato paragonato a a Sentieri Selvaggi diciamo e naturalmente John Milius Steven Spielberg e soprattutto George Lucas che praticamente ha rifatto nel primo Star Wars cioè oddio non è il primo è l'episodio 4 comunque il primo che ha realizzato nel 77 ha rifatto Pari Pari la scena di quando Ethan torna dalla prima incursione verso il villaggio dei Comanci e trova praticamente tutta la sua famiglia sterminata quindi allo stesso modo Luke Skywalker trova la casa della zia Owen e della zia Beru saccheggiata bruciata e i cadaveri dei suoi zii stessa cosa e la rifà anche in un altro momento nell'attacco dei cloni mi sembra quando praticamente Anakin va nel villaggio dei predoni Tusken e fa una strage esattamente come John Wayne cioè riprende proprio anche un po' le stesse inquadrature le stesse modalità esattamente quando John Wayne fa una strage a cavallo nel villaggio dei Comanci comunque vabbè al di là di tutte queste supercitazioni quello che veramente ci interessa è che The Searchers quindi Sentieri Selvaggio è veramente appunto un film galattico che vi consiglio di vedere anche se può sembrare un po' lento anche se può sembrare veramente datato in realtà forse è il primo diciamo il semino dei western revisionisti che arrivano poi negli anni 60 e 70 e che sicuramente piacciono di più a tutti ad esempio lo spaghetti western a me piace un po' più del western classico anche se appunto dicevo il western non è il mio genere però ecco The Searchers invece vale veramente la pena lo faccio vedere un'ultima volta e poi vi saluto perché ho già parlato troppo e mi ha fatto piacere vedervi e sentirvi spero che guardiate anche The Searchers e lo immaginavo che l'hai visto multiple volte anche io lo vedo spesso niente allora resistere e alla prossima volta